Il fumetto come strumento didattico per aiutare gli studenti stranieri a integrarsi al meglio nella scuola. Era questo l'obiettivo del progetto di mediazione culturale IALA che ha coinvolto diverse scuole medie della Campania. Sono stati premiati gli studenti delle tre scuole che hanno realizzato il miglior fumetto sul tema dell'integrazione. Responsabile del progetto è Maria Teresa Terreri. È un progetto che mira a favorire i percorsi di integrazione sociale della popolazione immigrata che risiede in Campania. Si rivolge in particolare ovviamente ai cittadini stranieri che sono sul nostro territorio ma si rivolge anche agli operatori dei servizi pubblici attraverso attività di consulenza, informazione, aggiornamento. È un servizio a tutto raggio. Durante l'incontro abbiamo ascoltato la professoressa Elena Russo della scuola Edoardo De Filippo di Poggio Marino che spiega difficoltà e soluzioni per sostenere l'integrazione in classe degli studenti nati e cresciuti in luoghi con culture diverse da quella italiana. Il nostro lavoro e il lavoro che hanno preparato i ragazzi parla proprio di una bambina cinese che arrivò senza sapere una parola e iniziò a fare amicizia con gli altri insegnando la tecnica dell'origami. Poi il tutto è venuto da sé, però all'inizio lei era molto timida, molto sulle sue, molto vergognosa proprio di fare amicizia. Non ci riusciva e non poteva. Il fumetto quindi è una strada giusta. Sì, è stata una bella tecnica, una bella che ha curato il mio collega di arte soprattutto, ma un po' un lavoro di gruppo. Grazie.